Porta Nova 26 punti, Porta De Mistore 29 punti, Porta Sant'Angelo 37 punti. Ve lo dico allora per motivi della giuria... Allora diamo un attimo di attenzione, Michele mi dà una mano ad estrarle l'ordine per i corti. Vai Michele. Allora il primo corto sarà quello di... Porta Missoria. Vai Michele. Secondo corto... Angelo. Il corto di Porta Sant'Angelo. Porta Nova. Poi abbiamo il corto di Porta Nova ed infine Porta Tessuto. Un attimo qui davanti per piacere non facciamo mettere nessuno perché dobbiamo approntare lo schermo. Allora per motivi di ve lo dico purtroppo i streaming non possiamo mandare i corti perché la giuria poi li vedrà venerdì quindi potrebbe capitare che postandoli, riprendendoli si possano vedere prima. Quindi ci vediamo più tardi dopo i corti alla chiusura e poi domani sera con la scenografia. Buonanotte a tutti.